Voilà! Oggi vediamo la seconda maglia del Paris Saint Germain per la stagione 22-23 nella versione player, la maglia di Messi. Dimenticavo, fatemi sapere quali altre maglie vorreste vedere in futuro e fatemi sapere cosa ne pensate di questa maglia. Ciao! Con la maglia da trasferta PSG 22-23 il club continua la sua associazione con il marchio Jordan. L'ultimo design dei campioni della Ligan rende omaggio alla casa del PSG, lo stadio Parco dei Principi, che celebra il suo cinquantesimo anniversario. La maglia da trasferta Jordan PSG 2022-23 introduce un nuovo look in grigio con una striscia centrale nera che sfuma al centro per fare spazio allo sponsor Qatar Airways. All'interno del colletto è presente un'etichetta speciale. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità, più aderente rispetto alla versione Fan, è progettata per il fisico dell'atleta. Avevo visto questa maglia già nella versione Fan che trovate qua sopra. Devo dire che nella versione Player secondo me è più bella e in questo caso la mia valutazione è 4 stelle. Qui in alto vedete il prezzo e su questo non c'è niente da aggiungere se non che è veramente un prezzo molto conveniente. Vi ricordo che in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, che è fatta benissimo, fedelissima a quella che indossano i calciatori, perfetta in ogni particolare e che ha anche una consegna molto veloce. Questa è arrivata in 19 giorni. Ora vi lascio alla parte in cui vedete la vestibilità. Se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia Large della versione Player.